Questa sera si gioca Juventus-Shakatar al Juventus Stadium, questa è una partita molto importante, una partita di Champions League, lo Shakatar viene dalle ultime 5 partite da tutta una serie di risultati positivi, ha sempre vinto con due reti o più, sia nel campionato ucraino che in Champions. La Juventus, lo sappiamo bene, viene da delle vittorie e dei pareggi, ha vinto con il Genova, ha pareggiato in Champions nel 19-2-2 in casa del Chelsea, un risultato questo molto importante, ha vinto col Chievo, ha pareggiato con la Fiorentina fuori casa e travolto la Roma 4-1. Secondo Lucescu e secondo molti personaggi importanti del settore la Juventus è favorita in questo campionato, noi ci crediamo e crediamo che questa sera farà molto bene in casa e pensiamo di vedere proprio una bella partita.